Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il silenzio di Fedez e Chiara Ferragni fa rumore. Marina Di Guardo, madre della influencer, rompe il silenzio. Il dissing tra Fedez e Tony F ha coinvolto la ex coppia d'oro dei social. Il brano di Fedez, Allucinazione Collettiva, racconta dettagli della separazione e accuse contro Chiara Ferragni. Marina Di Guardo interviene con un post su Instagram, senza fare riferimento diretto alla situazione. Il post sembra un messaggio di saggezza in un momento difficile per la famiglia?